La situazione di Narcevia, come potete vedere, è drammatica. Siamo arrivati ormai a oltre due metri di neve nel centro storico e quindi c'è la difficoltà di sgomberare questa neve e le carreggiate sono strettissime. L'accesso verso ovest è veramente complicato e si stanno isolando le frazioni di Santo Stefano e Civitalva, dove ci sono muri con oltre tre metri di neve. Quello che mi preoccupa di più sono le persone isolate che si trovano nelle frazioni, in case sparse, gente anziana, sola, che ci chiamano in continuazione perché hanno bisogno di viveri, di medicinali. Stiamo facendo il possibile e stiamo aspettando un aiuto concreto dalla protezione civile. Dovrebbe arrivare una turbina domani pomeriggio per riuscire a liberare le strade chiuse. Grazie a tutti.